Il Movimento 5 Stelle vuole semplificare la complessa macchina amministrativa del Comune di Venezia. Vogliamo quindi attuare una seria riorganizzazione di tutti gli uffici comunali ma anche di tutti gli uffici e le strutture delle società partecipate. Abbiamo circa 10.000 dipendenti ed è possibile ovviamente fare delle economie di scala. Sui 700 incarichi circa esistenti in Comune vogliamo ridurli fino ad un dimezzamento e attribuirli soltanto in base a criteri di merito, quindi non più incarichi a vita ma incarichi a tempo determinato e attribuiti secondo criteri di competenza e merito. Vorremmo altresì semplificare la complessa normativa, quindi tutti i regolamenti, tutte le ordinanze che sono di competenza del Comune e questo lo vorremmo fare ovviamente con la partecipazione dei cittadini e delle categorie economiche. Vogliamo quindi chiudere con un nuovo patto fiduciario tra amministrazione e dipendenti comunali. Questo può essere fatto attraverso una sana formazione e tagliando così anche le consulenze esterne. Votateci. Tutto questo può essere fatto semplicemente votando Movimento 5 Stelle, votando per l'onestà.